Si porta il pallone a casa questa sera, un'ottima prestazione condita da una tripletta personale. Sì, l'abbiamo preparata bene, eravamo molto carichi di questa partita, l'abbiamo affrontata con la testa giusta, con la fame giusta, con la guaglia giusta, quella importante. E niente, poi se viene la tripletta sono felice, però l'importante è il rispetto della squadra, che ci dà morale, ci dà fiducia e ci dà anche modo di preparare la prossima partita con serenità, è quella che ci serve a noi, che siamo dei ragazzi giovani, e niente so felice. Un fustano concreto e in avanti anche a cercare, è capace di soffrire e di stringere i denti anche in difesa? Sì, sì, sono un po' le nostre qualità, diciamo. Siamo forti nella ripartenza, siamo forti nei grossi mezzo, siamo molto forti in difesa, con scotto, con fede. Anche se siamo giovani, per me possiamo toglierci le grosse soddisfazioni. La salvezza, diciamo, è il primo obiettivo, come sappiamo, però chissà, ma rifare qualcosa di più, vediamo. Due su due in casa può diventare questo un fortino in ottica campionato? Anche perché lo stadio è stato pieno, sia all'esordio col prato che oggi. Sì, innanzitutto ringraziamo i tifosi, che ci danno sempre una grossa mano in casa. Lo stadio è molto compatto, cioè, senza tanto pubblico, e questo ci dà una grossa mano. Anche perché, ovviamente, essendo giovani, abbiamo bisogno di queste cose, abbiamo bisogno di questa carica. Eh, speriamo che diventi un fortino, speriamo di fare più punti possibili sul nostro campo, che è il campo dove ci alleniamo tutti i giorni. Quindi, dove prepariamo le partite, dove ci alleniamo, dove conosciamo l'imbalzo della palla. E poi se ci può dare una grossa mano. Perfetto.